È conto la rovescia per la festa di Capodanno in Piazza Cavalli a Piacenza. È tutto pronto per accogliere con apertura dei varchi e accesso all'aria a partire dalle 20.30 i Planet Funk per una notte di grande musica dal vivo con una delle band più distintive del panorama elettrodance internazionale da oltre 20 anni. Ad aprire e chiudere la serata condotta da Achille Maini i DJ di Radio Bruno per ballare tutti insieme con i successi dell'anno che si chiude e quelli di sempre. L'invito a festeggiare in Piazza Cavalli è esteso anche al pubblico di appassionati che il 31 dicembre gremirà il Teatro Municipale per il tradizionale concerto di San Silvestro su cui si alzerà il sipario alle 18 in scena l'orchestra farnesiana diretta dalla maestra Gianna Fratta con la partecipazione della soprano Leonor Bonilla con musiche di Rossini, Strauss, Doninzetti, Verdi. È stata pubblicata l'ordinanza sindacale che vieta su tutto il territorio comunale dalle 20 di domenica a 31 dicembre alle 4 del mattino di lunedì l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio. Sarà poi obbligatoria per la società organizzatrice dell'evento e per gli esercenti commerciali e artigianali del centro storico per tutto il periodo della manifestazione la somministrazione e o la vendita delle bevande e degli alimenti in contenitore di carta o plastica. Tutte le informazioni su viabilità e divieti sono disponibili sul nostro sito liberta.it e domani su Libertà.